Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Ghisleri Euromedia Research sulle intenzioni di voto politiche nazionali sulla stampa. Fratelli d'Italia scende dal 29,2 al 27,4, perde quasi due punti percentuali. La Lega è al 9,8% mentre Forza Italia al 7%. Totale centrodestra 44,7. Il Movimento 5 Stelle al 16,3%, Azione al 4,2, Italia Viva al 3,9. Il PD al 20,8, Verdi sinistra 2,5, Totale centrosinistra 25,3. Indecisi e astenuti sono il 34,7%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti.